allora è da parecchio che non ci vediamo, vedo pure le sigarette vogliamo recensire, dobbiamo guardare un poco questa console M25 questa è proprio una grossa cinesata della SJGAM e potrebbe essere la console retro definitiva un poco che richiama il joystick della PlayStation 5 ovviamente è quasi definitiva perché da poco stanno uscendo anche delle console che stanno simulando senza nessun problema la PlayStation 2 questa qua si ferma alla PlayStation 1, la PlayStation portatile è una console in 4 terzi in HD che può sopportare schede microSD fino a 128 ma io sinceramente ci ho messo la 256 o meglio me la sono fatta mandare con la 256 l'ho presa su Aliexpress perché ce l'ha anche Amazon però a dire la verità su Aliexpress costa molto di meno perché ovviamente non ci sono tutte le tariffe le imposte che prende Amazon dai venditori cinesi e poi sinceramente con Aliexpress mi sto trovando benissimo io sono stato uno dei precursori a utilizzare Aliexpress e veramente le spedizioni prima ci volevano un mese, due mesi oggi in 15-14 giorni con tracciabilità arrivano quando l'andiamo ad aprire è molto minimale il pacchetto ovviamente è arrivato un po' lesionato ma questo dipende dal viaggio all'interno troviamo un cavo HDMI che si può collegare alla televisione troviamo la console così proprio è un piccolo libretto delle istruzioni che poco serve anche perché dovrebbe starci anche in inglese ora ve lo dico se si sta anche in inglese il cavo qua sta anche il cavo di ricarica ovviamente si sente che è molto plasticoso su questo non possiamo dire niente però al tatto non è malvagio è semplicissimo l'utilizzo come potete vedere da qui ci sta l'attacco HDMI mini per la televisione l'accensione la scheda microSD ovviamente l'uscita per la ricarica USB-C i tasti L1, L2, L2 abbastanza comodi sinceramente per una retroconsole non è che si possa chiedere tanto ne ho viste altre di peggiori all'interno ci sono circa se non sbaglio 10.000 11.000 giochi così dicono poi bisogna sempre andare a controllare semplice accensione con il tasto start che sta qua sopra il tempo di caricare ovviamente vi consiglio sempre di fare un backup della scheda sul computer perché se non sia mai la madonna si smagnetizza la scheda o qualcosa avete perso tutto all'interno ovviamente ci sta emulec che loro hanno già caricato nel momento in cui si avvia la console potete tranquillamente andare a scegliere il vostro gioco preferito e vedete il PSP girando con il tasto PSX tutti i giochi i favoriti che ti puoi mettere tu gli arcade classici e poi ci sta il MAME l'Atari 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 7008 vabbè i vari tipi di Atari l'Atari Links i Capcom eccetera eccetera quindi sinceramente carino portatilissimo comodissimo per chi si vuole mettere un po' nel letto così a perdere tempo la sera viaggia in treno per non portarsi Steam Deck Nintendo Switch questa qua è comodissima ci sono tantissimi giochi norma vede scegliete con il tasto API scegliete quello che volete potete salvare secondo me è veramente una console definitiva per chi non cerca poi ovviamente qui ci sta l'anteprima del gioco per chi non cerca ovviamente anche quelli della Playstation 2 per il resto sono davvero molto carini ovviamente ci sono i Super Mario ci sono i Meta Slug ci sta tutto quello che ci deve stare per la Playstation 1 ovviamente parecchi sono giapponesi però sono quelli soliti ecco qua Tomb Raider ci stanno tantissimi giochi sinceramente crash i tutti crash vale la pena per il costo una settantina di euro quella completa ovviamente vi ripeto poi si spegne qui sotto un po' plasticosa si sente però al tatto non è malvagio sicuramente è molto comoda è molto leggera a mio avviso ne vale la pena quindi ripeto si chiama M25 della SG-GAM la si trova facilmente su su AliExpress maggiorata anche su Amazon e può essere una retroconsole definitiva per giocare ai vari emulatori questo è quanto e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo